Ok, chiariamo una cosa. Non ti sento da una settimana e ora tu vuoi un'equazione matematica che dovresti sapere per salvare il mondo. Ti prometto, mi farò perdonare il prima possibile. Puoi farti perdonare subito. Cosa? Sì, voglio sentirla. Non ora, no. Sì, ora, da stinuccio. Susy Puzzi, è urgente. Qui è Susy, passo e chiudo. Ehi, 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 ok, 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 ok. Turn around, look at what you see in her face. The mirror of your dream. Make believe I'm everywhere, given in the light. Written on the pages is the answer to whatever. Never ending story Never ending story Never ending story Grazie a tutti.